buonasera la mamma ha fatto tutto sto lavoro per niente perché alla fine ha grandinato solo nel ravennate adesso domattina se voglio andare al mare devo togliere tutto sto capolavoro vero mosini amore mosini amore vada trovare lucio lucio da quando ho messo il lampione lì funzionante nella grotta di lourdes sembra la grotta di lourdes ha detto qualcuno lui non si muove ma chi sta meglio di lui chi sta meglio di luci luci hai avuto qualche illuminazione qualche idea geniale per far diventare la mamma ricca no stai lì tu vero luci stai troppo bene lì ah sì 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 e mosè cosa fa mosè mosè se pensi di fare la popoli tu sappi mosè viene a vedere che io ti ho comprato un'altra lettiera alla pipì mosè viene a vedere qui per favore guarda che bella non ci siete andati neanche una volta cosè guarda mosè 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 guarda almeno mosè cioè non la guarda io non so più cosa fai con voi è o bel pandorino o bel panterino o bel panterino sei rinco sei addormentato ah ecco perché è arrivato lucio geloso è arrivato lucio geloso dai dagli baci baciatevi dai oh che bello tanti bacini tanti bacini però tutti dalla mamma chi è il preferito chi è il preferito io volevo solo dirvi che qua c'è la lettiera nuova per favore non avete fatto la cacca neanche una volta guarda che ai vostri follower piace molto vedervi insieme non siete mai nello stesso video contemporaneamente a meno che non vi meniate finito non fate più niente lui viene dalla mamma lui si viene a strisciarsi lui si strisce dalla mamma e io vado in casa e tutti vengono in casa vero tutti in casa anche mosè tutti in casa